Quando avendo che dannale, come io ho amato voi, come io ho amato voi. Il servo non sa ancora amare, ma io ho chiamato miei amici, rimanete nel mio amore. Ed amate il Padre come me, questo è il mio comandamento. Come io ho amato voi, come io ho amato voi. Io prego il Padre per voi, e darà il Consolatore, che rimanga sempre in voi.